Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova rubrica dedicata al box office americano-internazionale e comprendente ovviamente anche quello italiano. Ho deciso di cominciare proprio oggi, questa sera, con questa rubrica perché questo weekend è uscito Old, il nuovo film di Shyamalan, un regista che io seguo da quando avevo praticamente 12 anni perché il primo film che vi di dal cinema di Shyamalan fu il predestinato quindi insomma, fin dagli suoi primissimi film, primissimi lavori. Quindi ho sempre seguito non solo i film, ma anche l'andamento al box office, un regista che ha sempre realizzato film che nel bene o nel male hanno sempre incassato cifre interessanti. Ma, se proprio dovessimo andare a giudicare questa filmografia di questo regista in base al flop, quindi costi ricavi, l'unico vero proprio flop della carriera è stato Lady in the Water che incassò circa 70 milioni in tutto il mondo e ne era costato una quarantina. Quindi è forse l'unico vero flop perché poi anche The Last Airbender, After Earth che erano due film ad alto budget, incassarono comunque delle cifre modeste quindi 320 milioni per The Last Airbender, oltre 250 per After Earth sicuramente non due successi, ma nemmeno due mega flop come poi diciamo sono rimasti etichettati. In ogni caso, sì, non andarono per niente bene, erano ben lontani dalle cifre che le produzioni si aspettavano però insomma, non erano propriamente dei veri e propri flop clamorosi il cinema ci ha regalato dei flop molto peggiori di quelli. In ogni caso, Old, uscito questo weekend in America, incassato in America 16 milioni di dollari nel mondo al momento sembra assestarsi sui 23, quindi 16 in America e 6 o 7 nel resto del mondo. Una cifra molto bassa, è l'esordio cinematografico diciamola più basso della sua carriera ovviamente va anche considerato il periodo pandemico, il periodo covid e tutto quanto però comunque è un incasso molto basso, inferiore a Lady in the Water che incassò nel suo primo weekend 18 milioni, quindi insomma l'esordio più basso nella carriera di Shyamalan. Bisogna vedere se nelle prossime settimane questo film regge o se invece crollerà. Shyamalan di solito ha sempre avuto dei grandi esordi, penso ai 40 milioni di signs, anzi 60 milioni di signs, ai 40 milioni di split glass ma stando più in tempi recenti però poi ha sempre subito dei cali piuttosto grossi, segno che molti suoi fan vanno al cinema nel primo weekend e poi c'è magari gente che viene attrattata dai trailer di Shyamalan sempre molto intriganti e poi rimane deluso da quello che vede perché non sono film per tanti questa maledizione in un certo senso Shyamalan se la porta dietro dai tempi di Unbreakable quindi è un qualcosa destinato a ripetersi, però sono curioso di vedere nel caso specifico di Odd che sta avendo recensioni molto contrastanti, c'è chi lo ama, c'è chi lo odia personalmente non ci ho parlato nel video dedicato ad Odd, è un film da poco più di 6 quindi sono curioso di vedere come andrà nei prossimi weekend e soprattutto come andrà nel resto del mondo perché non credo sia uscita ancora in tantissimi paesi perché se così fossi incassare solo 6 milioni all'esordio internazionale sono veramente veramente pochi, è anche vero che il film ne ha costati 18 circa quindi le spese rientreranno facilmente per l'Universal ma sicuramente sia per il nome di Shyamalan sia per il tipo di film sicuramente l'Universal si aspettava altro. Secondo me l'uscita prevista per gennaio-febbraio di quest'anno sarebbe stato uno slot d'uscita sicuramente migliore rispetto a quello estivo anche perché insomma è circondato da Black Widow, Space Jam, Fast and Furious ovviamente sono film più adatti forse per il ritorno al cinema nel periodo post-pandemico ma non perché sono più belli ma perché semplicemente hanno budget talmente elevati da riportare allo spettacolo o comunque da riportare alla voglia allo spettatore di tornare al cinema a vedere un po' di effetti speciali ecco diciamo c'è tutto il concetto è un po' quello e infatti sono i film che bene o male al momento stanno dominando gli incassi internazionali e non. E infatti Fast and Furious con questo weekend supera la bellezza di 600 milioni di dollari forse l'incasso più alto dai tempi pre-pandemici perché poi alla fine dopo il primo lockdown è uscito Tenet che è arrivato sui 300 milioni Black Widow che con questo weekend supera i 300, arriva a 316 milioni quindi insomma ha recuperato un po' terreno grazie agli incassi internazionali, gli incassi americani sui 150-160 insomma sicuramente l'incasso Marvel più basso e sia internazionale che non però anche lì va considerato è uscito su Disney+, va considerato che non sta avendo un passaparola particolarmente positivo va considerato che molti se lo possono scaricare tranquillamente quindi insomma un incasso basso, un incasso alto non si sa, è difficile da giudicare in ogni caso sicuramente l'incasso più basso nella storia del Cinematic Marvel Universe Fast and Furious dicevo supera i 600 milioni di dollari, un successo internazionale pazzesco quasi 500 milioni solo all'estero, in America è arrivato ai 160, comunque un incasso più alto del primo film un incasso ripeto post-pandemico veramente importante e bisognerà vedere quando arriverà in Italia perché in Italia ancora non è uscito in Italia la saga di Fast and Furious è andata sempre piuttosto bene vediamo con i cinema, con questo benedetto Green Pass come se la caverà infine Space Jam, Space Jam 2 è uscito non so nemmeno quanti anni dopo il primo, credo 26 anni che dire, vabbè ne hanno parlato tutti malissima dei voti online di pubblico e critica veramente ridicoli si aggira intorno al 3 al 4 quindi insomma sono talmente brutti che sono curioso di vedere questo film come hanno fatto a Fast e Macello in ogni caso il film è arrivato quasi a superare i 100 milioni di dollari sull'incasso internazionale in America è sui 40 e appunto un'altra cinquantina nel mondo vediamo come andrà a fine corsa anche questo è un film che dovrà uscire in Italia non si sa bene quando, ma uscirà lontani gli incassi del primo film al momento però insomma bisogna vedere anche qui cosa succederà anche perché Space Jam credo sia già online anche lui perché credo faccia parte dell'accordo Warner e HBO Max credo, non ne sono sicurissimo di questo film da notare invece come gli incassi post-pandemici migliori ce l'abbia paradossalmente Quiet Place 2 perché? Perché Quiet Place 1 aveva incassato a fine corsa 190 milioni in America e 350 nel mondo e Quiet Place 2 con la finestra Paramount senza streaming senza niente è arrivato a incassare in questo weekend oltre 250 milioni di dollari nel mondo segno che sì, sono distanti ancora i 350 mondiali ma in America è a 160 quindi sono vicinissimi 28 milioni in più che aveva al prima fine corsa quindi sicuramente non arriverà a 190 milioni anche questo però comunque è un dato molto importante il fatto che gli incassi nonostante post-pandemici, nonostante molte sale chiuse nonostante le riduzioni di entrate nelle sale il film ha incassato quasi la medesima cifra del primo film segno che probabilmente un po' la qualità paga un po' il passaparola paga ancora nonostante ovviamente il momento storico che stiamo vivendo ha influito ovviamente su tutti gli incassi di questi film sarei molto curioso di sapere come sarebbe andato Black Widow senza Disney Class secondo me non sarebbe andato bene come gli altri film Marvel comunque ma sicuramente avrebbe incassato di più di quello che sta incassando soprattutto in America che sembra esserci stato proprio un non dico un disinteresse però insomma un incasso molto più basso è un film uscito per carità fuori tempo massimo però è curioso questa diminuzione di incassi dall'ultimo film uscito che credo fosse Far From Home quindi boh forse questo accumulo di progetti Marvel insomma in quattro mesi abbiamo visto WandaVision Loki, Falcon, Winter Soldier, Black Widow probabilmente non sta aiutando tra l'altro da qua a Natale ne vedremo altri tre perché ci sarà Shang-Chi, ci sarà Spider-Man 3 ci saranno gli Eterni e ci saranno anche delle serie TV di nuovo quindi boh che questo genere possa iniziare a stancare chi lo sa non credo ancora però sicuramente potrebbero esserci dei primi segnali di o vi rinnovate oppure ciao è stato bello quindi boh staremo a vedere cosa succederà in ogni caso questo video è partito per Old chiudo di nuovo con Old mi dispiace un po' per questo incasso basso secondo me il passaparola non sarà particolarmente positivo quindi non credo che Old chiuderà la sua corsa a delle cifre molto alte secondo me si assasterà un po' sulle cifre di Lady in the Water a meno che per carità gli incassi internazionali poi non esplodano non è tutto possibile nella vita secondo me no non credo che assisteremo a delle grandi rivincite per Shyamalan con questo film secondo me verrà ricordato come il film con l'incasso più basso nella sua storia ripeto spero di sbagliarmi perché a me Shyamalan piace molto quindi quando incassa sono contento per lui però nel caso specifico secondo me Old rimarrà il suo film meno visto io vi ringrazio e vi do appuntamento a domenica prossima con l'aggiornamento del Box Office della settimana prossima ciao a tutti